Si ferma a 2 la striscia vincente dell'Amescuola Baschiettarezzo che viene battuta a Montevarchi per 67 a 56. Nonostante la sconfitta, Yamaranto chiudono al terzo posto la prima fase alle spalle di Virtus Siena ed Olimpia Legnaia Firenze che andranno a giocarsi i play-off. Mentre per la SBA la seconda fase prenderà il via il 9 maggio in trasferta contro il Prato dopo aver osservato un turno di riposo nella prima giornata. A Montevarchi prima parte di gara equilibrata, l'Amen pur tenendo qualche lunghezza di vantaggio non riesce ad allungare, complice anche una percentuale deficitaria, ai tiri liberi. Così dopo il 18-17 del primo quarto è un canestro di pipisca sulla sirena a regalare agli aretini il vantaggio all'intervallo per 42-41. Al rientro, dopo la pausa lunga, arriva il miglior momento per il quintetto di Cochmilli che grazie ad una difesa attenta e all'intraprendenza di Ghini trova per la prima volta un vantaggio di consistenza che tocca anche 7 punti prima del 48-43 del trentesimo. Nel momento migliore dell'Amen arriva la reazione della squadra di casa che mette tanta energia e con un parziale di 10-0 ad inizio ultimo quarto ribalta non solo il punteggio ma anche l'inerzia mentale della partita. L'Arezzo non riesce ad agire, alcune iniziative confusionarie ed alcune palle perse che chiudono la gara con più 13 per il Montevarchi. Negli ultimi possessi la Sbar riesce almeno a tenere a proprio favore la differenza Canestri chiudendo sotto con il punteggio di 67-56. Adesso per l'Amen un lungo periodo di attesa prima dell'inizio della seconda fase dove preparare al meglio il momento decisivo della stagione quando i Amaranto si giocheranno la permanenza in categoria. Nei prossimi giorni uscirà il calendario ufficiale del girone dove si dovranno evitare gli ultimi due posti che portano ai play-out.